Buongiorno a tutti popolo di youtube, ciao ragazzi, sono Toto, Biglio 86, Bancomatti, quest'oggi vi portiamo una news Carrefour, o perlomeno noi l'abbiamo vista lì, chiaramente solo il nome di questa promo è top, snack park, quindi si tratta di snack, maialate, varie, non si dimagrisci, esatto, esatto, solo a guardarle qua calorie, no, però se sei fortunato, se sei fortunato con questa promo è la possibilità, è la possibilità, allora pigliamo direttamente nell'angolino, almeno possiamo farvi vedere tutti i prodotti, perché sono veramente una miriade, che potete acquistare per questa promo e farvi vedere cosa potete vincere e qual è il punto, diciamo, del concorso, ok, allora, illuminaci un attimo, intanto faccio vedere il volantino, che è grandi marche al 50% Carrefour, noi l'abbiamo visto qua, a Carugate, esatto, quindi la promo da O, dal giorno dell'emissione del volantino, cioè il 28 aprile, è funzionante e attiva, se acquistate i prodotti da Carrefour, se li acquistate dall'altra parte, rischiate, cioè, magari se vincete ne annullano la partecipazione, esatto, giocate dove la promo è segnalata a volantino, perché il regolamento lo dice, esatto, allora raga, qua è facile, carta payback, sì, 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 solita carta payback, mi raccomando, poticini, sacri poticini, esatto, esatto, per avere anche il prezzo migliore, perché, esatto, la promo, guarda un po', nella terza pagina, ancora di uno, Zack, sì, 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 se no lo paghi 2,28 euro, allora, con carta payback ci sono dal 30 al 40%, adesso comunque vi facciamo vedere, la grafica del concorso, perfetto, praticamente, con questo concorso, ci danno la possibilità di vincere ogni giorno una card Decathlon da 150 euro, track, ah, ma non mi fanno schifo, è direttamente, cioè, 150 euro è dritta una bici, poi, esatto, bella, qualcosa a Decathlon puoi sempre, lo trovi, è facile, a parte che gli vestiti sono belli, costano poco, c'è camicie, pantaloni, cose, scarpe, cani da pesca, una maglietta con la stampa dei bancomati, perché la vincita in giro, se la vinciamo, se la vinciamo, se la vinciamo, facciamo tre maglie, e ne regaliamo una, esatto, dai, dai, ci può stare, praticamente, praticamente, per partecipare a questo concorso, facilissimo, facilissimo, non ci sono spese di spedizione, ok, dovete comprare almeno tre prodotti delle marche, tra Oreo, Milka, Mikado, Porociok e Vitasnella, allora, scusami un attimo, su Milka avete il 30%, sugli Oreo avete il 40% e sui Vitasnella il 30%, con la carta, noi abbiamo fatto così, abbiamo comprato tre Oreo e li abbiamo pagati un euro l'uno con la carta Payback, se no ci venivano su un euro, 4,50 euro, no, 4,70 abbiamo speso, esatto, e con tre euro abbiamo provato, e non c'abbiamo più biscotti, esatto, esatto, che quelli non fanno mai male, e sono spariti, sono due secondi, niente, alla fine, ricordatevi, tra queste marche che ripetiamo, Oreo, Milka, Mikado, Porociok e Vitasnella, tutta roba a salutare che fa bene, perfetto, perfetto, mi raccomando, ci deve essere almeno un Oreo, un Oreo, poi, vi ricordiamo che, per partecipare, voi vi mettete lì con il vostro bello scoltrino, dovete inviare un messaggio al numero che vi mettiamo qua vicino, 3, 6, 6, 4, 9, 9, 93, 98, sms, facile facile, noi l'abbiamo fatto, non è che ci hanno detto che abbiamo perso, ci hanno insultato, ci dispiace non hai vinto, conserva comunque lo scontrino fino al 30 settembre, perché possiamo partecipare ai premi non assegnati, in originale lo scontrino, si, 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 non fate gli asini, cioè nel senso, se dovete partecipare a più concorsi fate più scontrini, perché so già che succede, partecipate a due concorsi, ne vincete uno e vincete anche quell'altro e vi perdete il premio perché l'avete spedito, no, no, è così, è brutto, è così, è così, è così, se dovete decidere poi anche strada andare, no, praticamente poi nello scontrino dovete inserire i dati, scusate, nel messaggio dovete inserire i dati dello scontrino tipo la data, l'orario, l'importo e poi il numero dello scontrino, che poi, tutto con una meccanica spiegata bene, esatto, che vi copiamo nella descrizione, esatto, in descrizione poi chiaramente troverete tutto, il tipo di meccanica con le cose esatte che dovrete mettere e scrivere, con anche la tipologia di scrittura, perché ad esempio i due punti tra l'orario e l'orario, no, 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 zero, 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 qua liscio, non dobbiamo mettere proprio niente, esatto, vi spiegheremo proprio tutto bene, termine del concorso, scade il 18 giugno 2017, perfetto, ottimo, ottimo, quindi mi raccomando, ricordatevi, 63 carte regalo da 150 euro di Catronica, ogni giorno ce ne vince una, ogni giorno, e in più avete la fognazza, come si sordì, e ingozzate, se volete comunque provare, intanto che il prezzo è molto conveniente per roba biscotti, che ha una scadenza molto lunga, esatto, se volete partecipare due volte, fate due scontrini, prendete tre prodotti e tre prodotti, se ne mettete sei insieme, i dati scontrini non saranno uno, e potete partecipare una volta, una volta sola, quindi studiatevela bene, non so, siete a far la spesa, ne volete comprare sei, dividete, come noi siete a posto, tanto rimettete in fondo al carrello, lo mettete prossimo cliente, lo rimettete anche dopo, se no, se vi andate solo per quello, o capitate di lì, e avete visto il video, vi ricordate, andate nella cassa self, ci mettete un secondo, bam bam bam, e siete usciti, sparafresciata con la pestolina, che è anche divertente, sì, 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 fate proprio, proprio subito, ok, a questo punto torniamo grandi, quindi, ricordiamo un attimo, ci saranno poi tutti i link in descrizione, vi scriveremo il formato per l'invio delle sms, facciamo un bel copy in colla dal regolamento, esatto, quindi ricordatevi, cosa lampo non c'è da spedire niente, mi raccomandate niente, messagino, bestia e via, esatto, quindi sapete subito di che morte e morire, e a questo punto, io direi, ok, spero di marcomati, ciao, 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 spolliciate, commentate, e vi isola go go, ciao, 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 ciao Grazie per la visione!